altro omicidio a civita nova ucciso trentenne tunisino dopo tre anni si completa la rotatoria di largo tre martiri opere autostrade comitato si appella al prefetto contro le scelte di luci a pesaro danneggiamenti al manifesto elettorale di matteo salvi a fano torna l'appuntamento con il rata augusto martedì 9 agosto buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi apriamo quest'edizione parlando di un evento che ci porta fuori dalla nostra provincia di pesaro urbino perché a civita nova marche c'è stato un altro omicidio ad appena una decina di giorni dall'uccisione in strada dell'ambulante nigeriano alica ogorciua per la quale è stato arrestato il 32enne filippo ferlazzo ieri sera invece attorno alle 22 in una via del lungomare sud di civita nova frequentato da centinaia di persone è stato accoltellato a morte un trentenne tunisino a r le sue iniziali per generalità ancora non rivelate dagli inquirenti secondo alcuni testimoni la coltellata fatale sarebbe arrivata al termine di una lite a cui è seguito un inseguimento il magrebino è stato soccorso da un soggetto non identificato che in macchina ha portato il ferito in ospedale il trentenne però è morto al termine del viaggio in macchina la polizia sta dando la caccia al colpevole ed ora torniamo a pesaro per parlare di diverse opere stradali a cominciare dalla rotatoria di largo tre martiri che questa settimana verrà completata dopo una situazione provvisoria durata tre anni e mezzo è una delle intersezioni stradali più trafficate e strategiche della città oggi dopo un lungo periodo di sperimentazione cominciato tre anni e mezzo fa con i ugersi provvisori è iniziata l'ultima fase per rendere definitiva la rotatoria di largo tre martiri è partita infatti questa mattina la fase di asfaltatura del rondò che durerà fino a giovedì con turni di lavoro diurni e notturni lo scorso mese di è stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo con lo stanziamento di 400 mila euro finanziato dagli nazioni che comprenderà anche un analogo intervento sulla vicina rotatoria fra la statale e via milano si cui si interverrà probabilmente dal mese di settembre la rotatoria di largo tre martiri di fatto lega uno snodo strategico quello compreso fra la statale 16 la via ponte vecchio il lungo foglie caboto il ponte brigata ebraica e via lucio accio sarà una rotatoria con un diametro esterno di 25 metri con corsia in uscita dalla larghezza di quattro metri e mezzo ed entrata di tre metri e mezzo un progetto che avrà anche isole sparti traffico e completerà e si completerà con nuovi attraversamenti segnalati e una nuova illuminazione un intervento dunque strategico che da corpo ulteriore al vecchio progetto zero semafori avviato dal sindaco ricci oltre cinque anni fa opere stradali che si completano e altre che rischiano di saltare contravvenendo a quanto previsto dalle delibere del consiglio comunale e quanto sostiene il comitato di borgo santa maria che chiede chiarimenti al sindaco matteo ricci in merito ad alcune opere compensative previste dall'accordo con società autostrade vediamo il servizio il comitato di borgo santa maria chiede al sindaco di pesaro matteo ricci il rispetto di una delibera del consiglio comunale di sei anni or sono o perlomeno chiede spiegazioni dal primo cittadino spiegazioni reclamate da dante roscini e giovanni zona rispettivamente portavoce e presidente del comitato che appoggiati dall'avvocato silvia pierini hanno convocato oggi una conferenza stampa per esprimere le forti perplessità sulla realizzazione di alcune opere compensative di società autostrade opere da fare e non da decidere se pagare o meno attacca il comitato riferendosi alla delibera 114 del 2016 e riferendosi anche alla rinuncia espressa dal sindaco ricci a una parte di queste opere come il raddoppio degli interquartieri questo perché secondo la delibera risulta che le opere previste compresi gli espropri sono a carico di società autostrade e non del comune valutazioni che il comitato approfondito partendo dall'insostenibile analisi del carico di traffico attuale sulla zona di borgo santa maria borgo che ritiene vitali le opere compensative previste dallo stesso punto 4 della delibera in questione senza oneri da parte del comune dice di precisare che il costo per la realizzazione delle opere compensative previste dal progetto definitivo è posto a carico della società autostrade per l'italia compreso gli oneri espropriativi quindi non parla di soldi questa delibera parla di opere parlando di opere si intende che devono fare quel lavoro non è quel lavoro per tot soldi per tot milioni per cui se il sindaco è venuto fuori dicendo che mancano 5 milioni cioè cosa c'entra lui deve avere le opere allora o ha fatto un accordo diverso diverso da quello che sta scritto in delibera e noi almeno dalla nostra ricerca poi possiamo sbagliarci per carità è umano dalla nostra ricerca non ci sono stati non ci sono delibere che dicono il contrario per cui avendo poi essendo poi venuti a conoscenza di altri soldi che mancano e quant'altro già ha dichiarato lui che di rinunciare alla raddoppio degli interquartieri la domanda è semplice uno perché non rispetta la delibera due anche se credo di no siamo sicuri di no ma anche ci fosse un'altra delibera che dice il contrario cioè come può lui decidere su quali sono le opere stabilite dal consiglio comunale anche perché facciamo riferimento all'articolo 29.1 dello statuto del comune che dice che le direttive vengono date del consiglio comunale ed è il consiglio comunale obbligato a controllare e verificare quanto ha cioè quello che succede per cui il sindaco non può decidere decido io faccio io ma come si permette senza andare in consiglio comunale il comitato ha inviato anche una richiesta d'incontro al prefetto Tommaso Ricciardi esprimendo la forte preoccupazione sulla corretta applicazione della delibera in questione Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad un episodio di danneggiamento ad un manifesto elettorale della Lega e di Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre manifesto che si trova in un luogo molto visibile dagli automobilisti visto che è a pochi metri dal fast food McDonald's all'uscita dell'autostrada della Torraccia che immette su via Gagarin come si vede il manifesto è stato strappato in tutta la sua parte inferiore rendendo illegibili simboli di partito e invito alle urne ricordiamo che il danneggiamento ai manifesti elettorali è punibile con una sanzione pecuniaria che può andare dai 103 ai 1032 euro Nuove opportunità per le imprese commerciali messe in campo dalla Regione Marche è stato questo l'argomento dell'incontro tra il direttivo provinciale di Confesercenti e il vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni che si è svolto questa mattina al ristorante ideale di Fano Nell'occasione Confesercenti ha espresso apprezzamento per le misure attuate dalla Regione per contribuire alla ripresa del tessuto economico come valorizzazione dei borghi, riqualificazione dei centri commerciali naturali attenzione alle zone interne, all'enoturismo e all'agricoltura Ed ora cambiamo argomento perché come vi abbiamo detto nel telegiornale di ieri questa sera comincia il 43esimo Rossini Opera Festival Ad alzare il sipario sarà la nuova produzione Le Contori con Diego Mateus sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del coro del Teatro Ventidio Basso La regia, le scene e i costumi sono di Ugo De Ana lo spettacolo è coprodotto con il Teatro Comunale di Bologna Nel cast anche il nuovo direttore artistico del ROF Gian Diego Flores domani, mercoledì 10 agosto, alle ore 20 si alza invece il sipario del Teatro Rossini con La Gazzetta in cui Carlo Rizzi dirigerà l'Orchestra Sinfonica Rossini e il coro del Teatro della Fortuna in uno spettacolo ideato da Marco Carniti E dall'opera passiamo al dramma teatrale quello del Fossombrone Teatro Festival che giovedì 11 agosto chiude la sua 19esima edizione con il terzo e ultimo spettacolo della Rassegna sul palco di Piazza Mazzini l'opera di ispirazione shakespeariana processo a Shylock interpretato da Francesco Montanari popolare attore di cinema e serie tv Ieri sera la strada del centro storico pesarese Via del Fallo si è trasformata in un abbraccio di musica, parole e immagini questo è il titolo del momento di ricordo organizzato in occasione dei due anni dalla scomparsa del sarto e stilista pesarese Giuliano Bartoloni detto Giubartò Via del Fallo è stata addobbata con tutti gli abiti, bozzetti e le stoffe della bottega di Giubartò grazie all'impegno organizzativo della nipote Nicole in un tributo accompagnato dalla musica di Jacopo Mariotti e Diego Massimini e vi ricordiamo che quella di domani sera sarà invece la notte di candele sotto le stelle 20.000 candele infatti illumineranno il litorale di Pesaro Gabice Mare e il borgo storico di Gradara nell'appuntamento che per l'ottava edizione radunerà residenti e turisti in abito Total White per cene e musica in spiaggia alla Pala di Pomodoro di Pesaro verrà composta anche una maxi scritta Pesaro 2024 in occasione dell'assegnazione del riconoscimento a Capitale della Cultura ed ora da Pesaro ci spostiamo a Fanno perché da venerdì 12 a martedì 16 agosto torna Birra d'Augusto l'evento fanese dedicato alla birra artigianale con 12 birrifici coinvolti e un ricco programma di show cooking concerti e approfondimenti culturali tra le novità anche la birra per cani vediamo il servizio si torna alle origini ma in una nuova location dal 12 al 16 agosto sarà di nuovo il tempo di Birra d'Augusto la manifestazione fanese organizzata dall'associazione Fortuna Dea che unisce le migliori birre artigianali alla buona cucina e alla musica dal vivo il covid aveva costretto a un cambio di format dopo due edizioni vissute in sinergia con i locali del centro si torna ora all'idea iniziale ovvero alla creazione di un piccolo grande villaggio della birra e dell'intrattenimento musicale non più al pincio però tutto aveva infatti avuto origine sotto l'occhio vigile di Cesare Ottaviano Augusto quest'anno però ci si sposterà nei pressi della rocca malatestiana quest'anno abbiamo cambiato location per dare prevalenza a un altro punto storico di prevalenza culturale comunque della nostra città ritorniamo alla vecchia struttura con 12 birrifici artigianali di cui 8 del nostro territorio regionale 7 di questi sono tutti della nostra provincia abbiamo 7 stand del food un ricco programma culturale tutto all'insegna della birra artigianale sul mondo dei nostri birrifici artigianali due concerti ogni sera tra cover band e tanto rock tra le novità anche i cooking show a cura dello chef Antonio Bedini e un'idea per i nostri amici a quattro zampe la birra per cani quest'anno portiamo anche questo il concept è quello di un momento in cui il padrone porta in giro il suo cane allo sgambatoio a fare una passeggiata tranquilla si ferma a fare una birra e anche la birra da compagno per il cane che altro non è che una sostanza multivitaminica quindi senza alcolici, senza lupolo dal colore giallo classificata come birra per i cani questa sarà una delle novità ma la birra non è soltanto una bevanda o una banale scusa per fare serata lo sanno bene gli organizzatori dell'evento che hanno deciso di puntare forte anche sull'aspetto culturale ho ideato due momenti culturali che apriranno e chiuderanno la manifestazione quindi il 12 e il 16 il 12 ci sarà un evento che si chiama Augustus Fest quindi richiamo un po' l'October Fest ma anche le birre d'Augusto dove farò una breve carrellata sulla storia e gli stili delle birre mi avvalgo della collaborazione di una socia che si chiama Federica Russo è una birra sommelier e quindi facciamo questo breve tuffo nella storia e negli stili con una degustazione di quattro birre artigianali dei birrifici presenti quindi diciamo un modo anche per valorizzare i loro prodotti invece il 16 ci sarà Sorsi Diversi che è un format dell'Associazione delle Donne della Birra ideato in collaborazione con degli stili letterari quindi a ogni stile birrario con delle letture tratte da brani letterari che non sempre o necessariamente parlano della birra ma parlano dello stile quindi delle sensazioni e delle emozioni che richiama quell'assaggio, quella degustazione birra d'Augusto è dunque pronta da lietare fanesi e turisti confermando di essere una costante nel cartellone estivo della città della fortuna Sì, rimane una costante negli ultimi anni sicuramente un bel progetto che sta crescendo innanzitutto perché valorizza i birrifici del nostro territorio una bella collaborazione insomma con altre città che tendono a valorizzare proprio questo tipo di produzione e cade in un momento come quello della piena estate quindi un momento di Ferragosto dove tanti turisti sono nella nostra città e quindi un momento di vivacità la possibilità di passare delle serate nel nome della bella musica dell'allegria della bella enogastronomia e quindi di trovare di mostrare una città accogliente come lo è fanno in questi ultimi anni Ed ora passiamo allo sport la nazionale basket sordi in questi giorni è stata a Pesaro per il primo Memorial Ranocchi che vi abbiamo documentato nel telegiornale di ieri ma anche per organizzare la prossima spedizione al mondiale 3 conto 3 in Israele una spedizione sostenuta da uno sponsor pesarese che andiamo a scoprire in questo prossimo servizio Parte dalla villa di Morciola dell'imprenditore Otello Battistelli la prima spedizione della nazionale di basket sorde ai mondiali 3x3 prima anche perché è la prima volta che la federazione istituisce questa manifestazione per non udenti La nazionale basket sorde sarà a Tel Aviv in Israele dal 7 al 10 settembre e lo farà con sponsor sulla maglia il brand pesarese di compressori che ha deciso di sostenere la causa azzurra Mi era stato proposto anche qualche anno fa dopo io ero impegnato diversamente e adesso l'abbiamo ripreso quest'inverno mi ricordo, mi sembra quest'inverno ho dato il contributo perché giustamente è una roba siccome lo Stato non pensa a niente dobbiamo pensare a noi imprenditori in pratica io sarei andato a volentieri in Israele a settembre però sono in Sud America quel periodo allora per lavoro e non sarei andato a volentieri Nella villa di Battistelli presente lo staff azzurro che si prepara alla nuova sfida La scelta delle atlete quest'anno è stata molto complicata perché il livello della squadra è cresciuto molto e noi cercheremo sicuramente di fare il meglio e cercheremo di rendere la vita difficile a tutte le squadre come abbiamo sempre fatto Sicuramente io ho la fortuna di seguire questa nazionale da dieci anni e all'inizio abbiamo avuto dei momenti un po' difficili perché era una nuova realtà era anche difficile riuscire a reperire fondi, finanziamenti, sponsor che ci permettessero di fare raduni ma devo dire che poi siamo riusciti a creare un bel gruppo di lavoro e credo che non ci siano sacrifici che possano essere paragonati alla soddisfazione che ho avuto allenandole Ed ora dopo i successi agli europei e l'argento olimpico arriva l'inedito mondiale 3x3 è la prima volta che facciamo i mondiali perché è la prima volta nella storia dei soldi che viene fatto il 3x3 quindi non sappiamo le squadre che andremo a incontrare magari qualche nazionale già la conosciamo però non sappiamo le persone selezionate l'obiettivo è sempre quello di puntare il più alto possibile siamo insomma da tanti anni io sono appunto la più storica perché sono nella nazionale da quando è cominciata la storia da 2011 fino ad ora ed essere nominata pure per il 3x3 è una mozione indescrivibile perché è sempre un orgoglio indossare la maglia brutta come ha detto anche il capitano il 3x3 è tutto un altro sport però cercheremo sempre di dare il massimo e vedremo anche partita dopo partita come sempre cercheremo di migliorare il nostro gioco e concludiamo il nostro telegiornale con il nostro spazio dedicato ai libri di autori pesaresi è stato pubblicato questa estate il romanzo Etichette realizzato dallo psicologo, psicoterapeuta e professore universitario Francesco Riccardi lo conosciamo in questa prossima intervista il romanzo è un romanzo a forte taglio psicologico vista la mia professione e oltre alla narrazione della storia mi sono concentrato su quello che avveniva dentro la mente e l'anima dei miei personaggi e infatti li ho voluti tratteggiare in maniera molto definita ci sono il personaggio principale Emanuel che è un avvocato di 44 anni che cerca di sfuggire un po' agli stereotipi alle etichette appunto il titolo del romanzo che sono stati scritti per lui e cerca di strapparsene via per poter avere un futuro e anche una realtà diversa è un po' il suo combattimento con il quale cerca di uscire dalla realtà che era stata costruita per lui e ci sono vari personaggi anche la sua compagna Martina e questa figura particolare di suo padre che è l'avvocato del quale non viene citato il nome semplicemente perché è una figura austera forte che tutto sommato è carnefice ma è vittima perché è vittima delle sue etichette e di quello che lui si è voluto costruire Emanuel in qualche modo cerca di uscire da questa situazione I nuclei fondanti sono due la famiglia infatti Emanuel riesce a creare una sua famiglia e l'amicizia perché l'amicizia con Raffaele questo ragazzo semplice gli permette di uscire e gli permette anche di venire fuori e cercare di costruire la sua realtà Credo sia anche naturale, fisiologico qualche influenza anche delle sue esperienze quotidiane da psicologo e psicoterapeuta nella creazione anche dei soggetti, dei personaggi Ma quello è normale Ovviamente non ho riportato storie dei miei pazienti perché sarebbe deontologicamente scorretto però è ovvio che mi sono un po' informato mi sono un po' ispirato alla loro vita Qualcuno mi ha chiesto se è la mia storia visto che io ho 44 anni come il personaggio del libro No, non è un libro autobiografico però è ovvio che l'autore e la sua vita vengono fuori e si sentono forti nel momento in cui scrive nel momento in cui l'autore vede la storia e la riporta c'è se stesso per forza Mi sembra di capire che Etichette sta già ispirando anche un seguito ma intanto concentriamoci su Etichette dove i potenziali lettori possono trovarlo Allora, Etichette è disponibile in tutte le librerie d'Italia se non è presente il libraio lo può tranquillamente ordinare e gli viene consegnato dal distributore ed inoltre è disponibile nel circuito online quindi Amazon, Mondadori Store e via dicendo può essere ordinato ed arriva a casa Sì, Etichette è concluso c'è già in cantiere qualcos'altro speriamo il prossimo anno di partorire E allora davvero complimenti a questo autore pesarese di Carpegna, festival della canzone indimenticanto e quindi non perdetevi questo appuntamento e domani come sempre in diretta alle 7.20 in diretta sul canale 80 in diretta sulla nostra pagina Facebook e anche in diretta sul nostro sito rossinitv.it potete vedere il Buongiorno Rossini la rassegna stampa della provincia di Pesarurbino e chiaramente visto che tanti di voi sono già in vacanza alcuni ci andranno vi consigliamo di scaricare gratuitamente l'applicazione di Rossini TV per vedere le notizie della vostra TV da tutte le parti del mondo scaricatela, è molto semplice potete vedere tutti i nostri programmi in diretta oppure rivedere i servizi del telegiornale Grazie per essere stati con noi adesso vi lascio in compagnia del nostro Meteo